Sindaco, ma che pesce è questo? Ma questo che cos'è? Berlucci, Beretti e Triglie. Triglie che è l'alto, si dice, non so quelle di scuola. Sono quelle che si pescano col peschereccio. Vedi, vedi, si vede che hai dito a rabbare, eh? Sì. È vero, eh? Signora, ma il sindaco è bravo a tirar fuori i pesci. Sì, vediamo, vediamo qua.